Innovare fa bene alla salute delle aziende, anzi in tempi duri come questi è l'unico modo per contrastare la generale depressione dei consumi. Lo ha rilevato anche la Camera di Commercio, che ha analizzato il comportamento di 400 delle 2.566 imprese torinesi con elevato potenziale innovativo. La maggioranza del campione, il 56%, dichiara una crescita dell'export e il 63% ha registrato anche un aumento del fatturato. Aumento che per il 40% dei casi è tutt'altro che trascurabile, superando infatti quota 10%. Queste imprese fanno innovazione, fanno innovazione di prodotto. Il loro modo di rispondere alla crisi è stato anche attraverso la crescita, il tentativo di riadattare i prodotti per crescere i nuovi mercati. Il 67% delle imprese analizzate negli ultimi due anni ha innovato prevalentemente il prodotto, il 25% ha innovato le tecnologie di produzione, mentre il 15% il processo di sviluppo. Ben il 42% delle imprese ha investito in attività di ricerca, che non hanno ancora portato allo sviluppo di nuovi prodotti. Questo dato significa investimenti di medio periodo che guardano al futuro anche in un contesto congiunturale così difficile. I vincoli allo sviluppo sono generalmente legati alla mancanza di risorse finanziarie e alla carenza di finanziamenti pubblici, anche se il 46% delle imprese ha utilizzato fondi statali e il 33% fondi regionali. Più dei soldi però, quello che frena l'innovazione è la carenza di un ecosistema, una rete che stimoli la crescita e il confronto. Spesso la difficoltà di queste imprese nel fare innovazione è la non capacità di trovare il loro ecosistema, di trovare una filiera in cui sviluppare i propri prodotti. La mancanza di partnership con distributori o con clienti spesso frena le innovazioni, prima ancora dei soldi. L'osservatorio da 10 anni seleziona le aziende più innovative tra le 5.000 iscritte alla Camera di Commercio con più di 9 dipendenti.